che si avvicina ai trattati europei se in buona fede e se rileggio attentamente conclude che la codificazione è volontaria di una dittatura, una dittatura finanziaria. Allora, innanzitutto partiamo un attimo dal modello costituzionale e specifichiamo quelli che erano i paletti principali della nostra Costituzione. L'articolo 1 lo conosciamo, lo sappiamo, la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi non è che sia semplicemente un diritto, ma il lavoro è il fondamento della Repubblica, una Repubblica in cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e quali erano queste forme secondo i padri costituenti? I padri costituenti consideravano democrazia semplicemente laddove il cittadino fosse vicino a chi sceglie, a chi leggifera, per questo il fulcro dell'ordinamento repubblicano era il Parlamento, esclusivamente il Parlamento che doveva dirigere, coordinare e controllare l'attività di governo, quindi l'opposto di quello che avviene oggi per prassi. Tant'è vero che l'articolo 77 della nostra carta esordisce dicendo che non è consentito al governo legiferare. Gli unici casi che sappiamo in cui il governo è consentito legiferare sono su delega del Parlamento o la famosa decretazione d'urgenza in quei casi straordinarietà, eccetera, che però i padri costituenti non identificavano in quello che avviene comunemente. Si parlava di inondazioni, eruzioni vulcaniche, se andiamo a leggere Calamandrei di questo parlava. Perché questo? Perché effettivamente una delle caratteristiche principali del fascismo era proprio stata centrare il potere esecutivo, quindi era il potere esecutivo che aveva il controllo. Le democrazie invece vogliono che il cittadino scelga colui che legifera e sia sempre vicino al legislatore, perché così la democrazia non si disperde, non si allontana dal popolo, la sovranità rimane al popolo che semplicemente la delega con l'esercizio del voto. Questo modello è stato completamente tradito in ambito europeo, dove abbiamo una prima incompatibilità che è assolutamente pazzesca. In Europa l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, in vigore fin da Maastricht, prevede che l'iniziativa legislativa appartenga alla Commissione europea. Cosa significa questo? Che si è allontanato il potere di fare le leggi dal cittadino. Non è il Parlamento europeo che ha l'iniziativa legislativa, il Parlamento europeo è una sorta di notaio indifferita, che ha funzioni semplicemente formali nella procedura legislativa, mentre la Commissione è quella che ha l'iniziativa pura, cioè quella che decide che legge fare e poi la porta avanti. Questo è il discorso. La Commissione però non è eletta direttamente dai cittadini, i commissari sono nominati dai governi nazionali, uno per ogni singola nazione. E non è finita qui, quindi non è soltanto un problema che noi abbiamo allontanato dal popolo l'esercizio della potestà legislativa, il problema che addirittura abbiamo codificato con la stessa norma, l'indipendenza dei membri della Commissione europea dai parlamenti nazionali, dalle istituzioni europee. Cioè addirittura un commissario, una volta nominato, perché non si parla di elezione ma di nomina, non può neppure prendere consigli da noi, dalla democrazia. In sostanza se noi oggi decidessimo, come sarebbe ovvio e necessario, che è obbligatorio intervenire per la tutela del lavoro, non possiamo in alcun modo parlare col nostro commissario e chiedergli di fare questa proposta di legge. Lui è indipendente per legge, ma indipendente quindi in definitiva dalla democrazia e dalla sovranità popolare. Già se noi codifichiamo l'ordinamento del genere dal punto di vista legislativo, a priori noi vogliamo codificare un qualcosa che con la democrazia non ha niente a che vedere. E questo è soltanto un primo passaggio. La nostra carta poi agli articoli 2, nei vari principi fondamentali, 2, 3, 4 eccetera, va a riconoscere i diritti violabili dell'uomo, ovviamente, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui ovviamente si riunisce, ma soprattutto fa un'evidenzazione che è fondamentale. Riconosce gli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi basa il nostro ordinamento sulla collaborazione, sulla cooperazione, sulla solidarietà. L'Europa, al contrario, basa il suo modello economico esclusivamente sulla forte competizione tra stati e consociati. La competizione è il valore assoluto che prevale su ogni altro. Sul presupposto, puro dell'ideologia neoliberista, che un mercato lasciato libero a se stesso, riesca a distribuire meglio le risorse. Fatto storico, smentito dall'evidenza semplicemente statistica. Con queste politiche l'1% della popolazione mondiale al 99% della ricchezza. Quindi non serve chissà quale studio per capire che sono ragionamenti assolutamente demenziali. Eppure su questa base si è voluto fondare un modello preciso, che fa sì che Marco Mori, per primeggiare nel suo lavoro, deve far sì che Palma chiuda e diventi un disoccupato. Allora per me sarà più facile perché avrò acquisito posizioni di maggiore competitività. Un esempio pratico di cosa vuol dire questa lotta tra stati, lo vediamo in questi giorni. Con il Job Act noi abbiamo avuto un effetto principale sulla nostra economia. Deflazione salariale, già nei primi mesi 2% in meno di retribuzioni lorde. I salari si sono abbassati, che era poi lo scopo unico del Job Act. A quel punto cosa devono fare gli altri paesi? La Francia, di corsa, cerca di fare uno stesso tipo di norma perché deve assolutamente recuperare il vantaggio ripreso dai nostri lavoratori su questo presupposto. Quindi si innesca una battaglia a ribasso che serve semplicemente a tutelare i grandi capitali finanziari. E qui ci allacciamo all'altro punto centrale su cui si basa l'ordinamento europeo. Lo troviamo non nei primi articoli, perché i primi articoli vi parlano di pace, giustizia, ad esempio l'articolo 3, benessere, eccetera. Quindi sono fuorvianti, ma se poi andiamo al cuore...